Un bellissimo paesaggio, secondo me anche uno straordinario paesaggio. Lì nel mezzo c'è un'azienda agricola. Con il mio lavoro di agronomo ed enologo mi capita di visitare letteralmente ogni giorno in giro per il mondo tantissime aziende agricole diverse. C'è una cosa semplice, elementare, che tutte le aziende agricole hanno in comune. È il suolo. E c'è qualcosa nel suolo che da tanti anni a me ha sempre affascinato e mi ha appassionato. È il fatto che il suolo può letteralmente avere una memoria e un suolo può essere vivo. Beh, quando parliamo di memoria noi abbiamo le idee chiare, noi sappiamo cos'è la memoria, io so che mi chiamo Adriano, questa mattina mi sono ricordato che dovevo venire al TED per conoscervi. E sappiamo anche dare una definizione, possiamo definirla come una funzione psichica di riprodurre nella mente un'esperienza passata. E sappiamo anche, molto banalmente, dove andare a collocare la memoria nel nostro cervello. E è la stessa cosa anche per quanto riguarda i nostri amici animali. Quindi la memoria è nel nostro cervello dove, guarda caso, ha anche sede l'intelligenza. Se però cominciamo a domandarci dov'è il cervello delle piante, dov'è l'intelligenza delle piante, beh, cominciamo ad avere un po' di difficoltà. Perché penso che nessuno di voi abbia mai incontrato un cervello in una pianta, non l'ho incontrato nemmeno io da agronomo. Per fortuna, per rispondere a questa domanda, ci aiutano gli scienziati che si occupano di neurobiologia vegetale. Ci sono diverse università nel mondo che studiano tutte quelle che sono le interazioni nella pianta e tra le piante. E ci insegnano che la maggior parte dell'intelligenza delle piante, guarda caso, è collocata nelle radici che stanno nel suolo. E' lì che dobbiamo andare a ricercare tutti quelli che sono i fenomeni legati all'intelligenza e alla memoria delle piante nel suolo. Quindi cominciamo un po' ad avvicinarci a questo suolo. Il suolo, qui sotto questa chiesa c'è del suolo. Le mie mani stanno tenendo in mano un pezzo di suolo. Però che cos'è? Di cos'è fatto un suolo? Potremmo scoprire molto facilmente che un suolo è fatto per la stragrande maggioranza di una sostanza inorganica, minerale. Un insieme molto variabile di sabbia, roccia, limo, argilla. E solamente una piccola parte, che va dall'1 al 5%, è fatto di sostanza organica. Che è qualcosa che noi conosciamo già, perché l'abbiamo già sentita nominare come humus. Quindi questa è la parte organica del suolo. All'interno di questa sostanza organica possiamo invece andare a trovare la parte viva del suolo. E quando parliamo di un suolo vivo, vuol dire che è pieno di batteri, funghi, insetti, lombrichi, protozoi. Quella che è la comunità di un suolo. Quindi vedete, un suolo può essere anche vivo e vivente quando è ricco di queste simpatiche creature. Che hanno una faccia altrettanto simpatica, perché se andiamo a vedere che faccia ha la comunità di un suolo, beh, hanno queste facce e non penso che nessuno di voi li abbia mai incontrati nemmeno camminando oggi, arrivando qui. Beh, perché molto banalmente lo sappiamo, abbiamo bisogno di un grande ingrandimento. Abbiamo bisogno di un microscopio per andare a capire come sono fatti. E quando abbiamo un microscopio, beh, possiamo scoprire qualcosa di davvero interessante. Come per esempio, che in un grammo di terreno, un grammo è qualcosa che sta tra il mio pollice e il mio indice. In questo spazio possiamo trovare in un grammo solamente dai cento ai mille milioni di batteri e quasi un milione di funghi e molte altre creature. Quindi un suolo è vivo, può essere vivo. E quando è vivo, beh, ha una comunità particolarmente numerosa. E guardate, questa comunità la possiamo anche pesare. Se noi prendiamo 10.000 metri quadrati, è qualcosa che assomiglia a un campo da calcio. Beh, in quel campo da calcio, se li pesiamo, la comunità del suolo, beh, sono 2.000 kg di batteri, sono 6.000 kg di funghi e tante altre entità, nematodi, radici e quant'altro. Quindi un suolo può essere letteralmente vivo, c'è la sostanza organica. Possiamo misurare il peso e il numero della comunità vivente di un suolo. Bene, abbiamo imparato che esiste la sostanza organica. Ma che effetto ha poi la sostanza organica? Per capirlo userò questo esperimento molto semplice dell'Università del Maryland, però molto efficace, almeno a me ha molto colpito, dove è stata presa la stessa quantità di suolo, in questi due bicchieri, di un suolo che ha l'1% e il 3% di sostanza organica. Poca sostanza organica e tanta sostanza organica. Tutto il resto è uguale. Ma a prima vista direi che si somigliano. Potremmo far finta di vedere davvero molto poco. La cosa interessante è che se aggiungiamo la stessa quantità di acqua in questi due suoli, scopriamo questo. Scopriamo che dove c'è sostanza organica il suolo ha capacità di assorbire tantissima acqua. Dove c'è poca sostanza organica il suolo non ha capacità di assorbire sostanza organica. Pensate che la cosa non ci riguardi da vicino? Se volete vi spiego cosa significa questo, in maniera molto molto semplice. Questo significano alluvioni, inondazioni, frane. Questo è uno dei grandi spiegamenti dei disastri ambientali. Un suolo che non collabora, che non ha sostanza organica, crea degli autentici disastri. Quindi direi che forse ci è venuta voglia di capire come questa sostanza organica entri nell'agricoltura. Perché ci sono diversi modi di fare agricoltura. Io vi parlo di circa tre modi di fare agricoltura, i più famosi. C'è un modo che si chiama agricoltura convenzionale o integrata, che non si occupa di sostanza organica. Prevede l'uso di sostanze di sintesi che interferiscono nella quantità e nella qualità di quella comunità vivente che abbiamo chiamato sostanza organica. Quindi erosioni, problemi molto molto elevati. Per quanto riguarda il suolo e non solamente, anche per quanto riguarda noi. Abbiamo poi l'agricoltura biologica. È un'agricoltura che prevede che non si usino queste sostanze, queste tecniche che alterano la vita di un suolo. C'è poi l'agricoltura biodinamica, che è quella con la quale io lavoro da diversi anni e nella quale c'è un'autentica ossessione. Questa ossessione, guarda caso, si chiama sostanza organica. Usiamo le migliori tecniche possibili per prenderci cura della comunità vivente del suolo. Perché pensiamo che sia fondamentale per fare un'ottima agricoltura. Vediamo in che modo però possiamo di nuovo misurare questi tipi diversi di agricoltura. È così vero che diversi tipi di agricoltura possono incidere così tanto in un suolo, nell'agricoltura. Andiamo in Svizzera, dove c'è il FIBL, che è il più grande istituto di ricerca per quanto riguarda i diversi tipi di agricoltura. In pochi metri di differenza, di distanza, due tipi di agricoltura, la convenzionale e la biodinamica, vengono messi a confronto. Non abbiamo bisogno di essere agronomi o scienziati per capire che questo suolo non funziona. Si compatta, perde acqua, ci sono poche piante e crescono male. Dall'altra parte abbiamo un suolo che sta collaborando, sta producendo tante piante e si stanno sviluppando bene. E guardate che questa storia si ripete ogni volta allo stesso modo. Se andiamo in Veneto, in un vigneto, se andiamo in Sudafrica, qui siamo in Veneto, vedete, è un suolo che funziona, è un suolo poroso, scuro, che collabora. È un suolo con sostanza organica. Ecco allora dov'è la memoria di un suolo. È proprio qui, è una scoperta molto più semplice di quello che pensavate. Perché un suolo può essere intelligente, ma non ha la coscienza. Quindi non dimentica mai. È costretto ad avere memoria. Qual è la memoria? Beh, lui colleziona tutti gli effetti dell'attività che l'uomo produce nei suoi confronti. Se usiamo un tipo di agricoltura, beh, si ricorderà del modo in cui è stato trattato e se usiamo un altro tipo di agricoltura, come in questo caso, beh, questa è la memoria di un suolo. Si ricorda nel modo in cui è stato trattato e di conseguenza agisce. E vedete che la cosa ha un impatto molto forte su quello che sono le piante che poi coltiviamo. Possiamo comparare anche agricoltura biologica e agricoltura biodinamica. Radici più profonde, ramificate, una pianta più sana, più salutare. Quindi, forse, possiamo davvero far funzionare un suolo in un modo diverso. Vi mostro quali sono le tecniche che usiamo in agricoltura biodinamica per far funzionare bene un suolo. Quindi, in che modo ci occupiamo della sostanza organica. Alcuni esempi. La monocoltura distrugge la sostanza organica, motivo per cui cerchiamo di far convivere più colture possibili, ovviamente sempre in un modo economicamente sostenibile. Qui siamo in Liguria, in riva al mare. Questi vigneti sono circondati da orti e da frutteti. Quindi, la biodiversità, la monocoltura, non funziona. Andiamo in montagna, possiamo verificare la stessa cosa. Siamo in Trentino, in un vigneto, in mezzo al vigneto vengono coltivate queste verdure per aumentare la biodiversità e aumentare la sostanza organica. Cosa ci fanno queste oche in un vigneto in Sardegna? Queste oche mangiano l'erba e rendono inutile il passaggio di un trattore che in questo caso calpesterebbe e produrrebbe emissioni e CO2. E facendolo, rilasciano nel suolo gli escrementi che è di nuovo cibo e sostanza organica per il suolo. Questo è un esempio di un organismo agricolo che funziona. Usiamo dei preparati biodinamici specifici che, anche questi, contribuiscono in modo fondamentale ad aumentare la quantità e la qualità della sostanza organica. Di nuovo, la comunità vivente che abbiamo visto prima del suolo. Il compostaggio. Tanti di voi magari hanno un piccolo composter a casa. Ebbè, questo è un qualcosa di molto simile, semplicemente, molto più grande, sviluppato in modo più professionale, ma il compostaggio non è altro che un recupero di tutte quelle sostanze che vengono prodotte in un'azienda agricola e non vengono utilizzate per la produzione del prodotto vendibile. E quindi, in questo modo, trattati, tutti questi residui vegetali e animali riproducono di nuovo del concime, che è di nuovo cibo per la terra. Quindi la terra va nutrita e vedete quanti modi diversi abbiamo per farlo. Questo è un altro modo. Si chiama sovesci. È un modo bellissimo per incrementare anche la biodiversità di un'azienda agricola. Seminiamo delle specifiche essenze botaniche tra i filari di un vigneto, tra i filari di un frutteto, nelle rotazioni. E a un certo momento queste le tagliamo e vengono ridate al suolo come autentico cibo per la terra e, di nuovo, per quella comunità che abbiamo visto prima. Agricoltura biodinamica deriva dall'antroposofia, dove il nome stesso ci dice che c'è un uomo al centro. È un tipo di agricoltura nella quale ci prendiamo davvero cura di noi umani, nelle interazioni, nelle collaborazioni, nella solidarietà. E' un fatto fondamentale perché caratterizza davvero tanto questo tipo di agricoltura. Come vedete fino ad ora abbiamo parlato di agricoltura, agricoltori, agronomia. Potreste ancora pensare di non essere chiamati in causa in tutto quello che vi sto dicendo. Forse la memoria del suolo pensate che sia una cosa lontana da voi che non vi interessa. Vediamo se riesco a convincervi un po' di più. Questo è un pane, lo conosciamo. È un chilo di pane. Vi siete mai posti la domanda di quanta terra è necessaria per coltivare la farina occorrente per fabbricare, per produrre questo pane? Sono circa nove metri quadrati. È una superficie che la vedete. Sta attorno a me con un pane al centro. Quando allora compriamo un pane, la cui farina è derivata dall'agricoltura biodinamica, noi ci rendiamo responsabili della salute di quel suolo. Quindi è una cosa che ci riguarda tutti da molto molto vicino. Vedete come la consapevolezza di un gesto alimentare ci connetta subito con il lavoro dell'agricoltore e entriamo anche noi in un grande cerchio nel quale siamo responsabili. Siamo a Lucca, terra di olio e di pane, e potremmo immaginare che tutti qui dentro, che siamo 450, ci volessimo fare una bella fettunta, una fetta di pane con l'olio. Beh, se misurassimo il terreno necessario per produrre l'olio e il pane per queste 450 fettunte, con un semplicissimo gesto, noi salveremmo e ricominceremmo a far funzionare un suolo di 90 metri quadrati. Un appartamento intero, e potremmo continuare con tantissimi esempi. Un bel piatto di pasta con un bicchiere di vino, una singola azione, ci permetterebbe di salvare quasi un metro quadrato di suolo. Quindi vedete come la responsabilità di ognuno di noi comincia ad avvicinarsi alla terra, anche se non ci muoviamo da qui. E allora cominciamo a pensare un po' in grande, a pensare che magari cinque persone, per un anno intero, decidano di alimentarsi con prodotti provenienti dall'agricoltura biodinamica. E potremmo scoprire qualcosa di interessante. Potremmo salvare una superficie di suolo di circa 10.000 metri quadrati. Di nuovo il campo di calcio di prima. Guardatelo. È ritornato. E se ci piace di più, questa è la superficie che più o meno copre il pavimento del Duomo di Firenze. Cinque persone, semplicemente in un anno, guardate che superficie enorme, possono salvare di suolo. Un suolo che quindi collabora, un suolo che non si erode, un suolo che assorbe acqua, un suolo che tutela tutta quella che è la comunità vivente del suolo. Come? Mangiando prodotti provenienti da un'agricoltura attenta, che in questo caso si chiama agricoltura biodinamica. Ecco allora che possiamo ritornare all'inizio del nostro viaggio. Questa è un'azienda agricola di mille ettari, non è una piccola azienda agricola. Quindi ora è un po' il tempo delle good news, quelle che vorrei darvi. E perché sono delle good news? Perché questa è una grande azienda agricola e non è la sola. Ce ne sono tante di grandi e piccole che incontro nel mio lavoro in giro per il mondo, che hanno deciso di adottare un tipo di agricoltura che collabori con il suolo, l'agricoltura biodinamica. Però capite che tutti questi singoli agricoltori o queste comunità di agricoltori non possono davvero fare molto da soli. Hanno bisogno della nostra collaborazione, hanno bisogno della nostra consapevolezza, ma ora lo sapete. Ora sapete che ognuno di voi, quando decide di mangiare qualcosa, collabora in modo molto molto attivo a quella che è la salute di un suolo. Quindi vedete che la memoria del suolo ci riguarda davvero molto da vicino, perché il suolo ha bisogno di noi, il suolo ha bisogno di essere vivo, il suolo ha bisogno di sviluppare la migliore memoria possibile, senza sé e senza mai. Grazie.